Assessore Diodati, a Pescara da qualche ora si è tornati a parlare del costo elevato per parcheggiare soprattutto in centro città. Amministrazione comunale sta studiando delle soluzioni per andare incontro ai cittadini e agli automobilisti? Sta studiando, dovremmo sederci un attimino a tavolino per valutare un attimino i pro e i contro. Io penso che noi in primo luogo come nostro obiettivo deve essere quello che i cittadini di Pescara da questa bellissima riqualificazione dell'area di risulta e quindi da questo parco centrale i cittadini di Pescara non debbano essere penalizzati. Non ritengo che sia un'operazione corretta, per cui è giusto che la maggioranza tutta faccia una riflessione per vedere se eventualmente è possibile modificare o modulare questo tipo di progetto del parco centrale perché si potrebbero creare posti in numero maggiore rispetto a quelli che sono previsti, si potrebbe pensare in qualche maniera di favorire l'investimento privato stimolando qualche altra azione, va valutato in maniera approfondita.